Benvenuti, Sene Canziani è un'associazione di volontariato di Taranto che aiuta le badanti a trovare lavoro nelle famiglie che ci chiedono aiuto. La nostra sede è a Crispiano, il nostro numero è 349 561 32 44. Visitate il nostro sito web per saperne di più. Inoltre nel nostro canale YouTube Sene Canziani YouTube troverete numerosi video annunci di badanti pronte a lavorare con i vostri anziani. Grazie ai video annunci potrete conoscere ogni singola candidata, come fate in viso, negli atteggiamenti e come si esprime nella nostra lingua. E la cosa più utile è che potrete chiamarla e accordarvi in tempo reale, in piena autonomia. A presto!